Veroli a cui facciamo i complimenti perché Massimo Profeta da studio ci diceva che tu hai iniziato come trequartista poi piano piano sei arretrato e con Iervese sei passato a fare il difensore Sì, io quando sono venuto a pescare in prova, cinque anni fa ormai, ero trequartista dopo piano piano sono sceso mezzala in under 15 e under 16 poi mediano in under 17, a tratti anche difensore centrale fino a che l'anno scorso con Iervese sono diventato difensore centrale a tutti gli effetti E quello adesso è il tuo ruolo, dai, basta Complimenti per l'esordio, te lo aspettavi? Grazie mille Diciamo di sì, ma fino a un certo punto perché comunque in settimana c'erano delle incertezze non si sapeva chi era a disposizione o chi meno io comunque mi sono fatto trovare pronto e finalmente sono riuscito a cogliere questa occasione Facendo anche una buona partita, peccato per quei tre quattro minuti che noi abbiamo definito da incubo nel finale del primo tempo Tu credi lì cosa è successo? C'è stato un mezzo blackout diciamo relativamente nel senso non so come spiegato è stato quel momento così non so, causato da cosa però So che ci sta guardando da casa il tuo agente Carletto Di Renzo lo salutiamo naturalmente ci tiene molto a te Sì, 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 certo, assolutamente faccio un saluto Mi dai un voto per chiudere a questo tuo esordio, a questo pareggio? Forse che lascio un po' di amare in bocca vista la superiorità numerica? Sì, dispiace per il pareggio perché comunque anche nel finale abbiamo avuto buone occasioni il voto non lo so, lascio a voi, voi mi dovete valutare Ai как, no? .